Buongiorno a tutti, mi chiamo Achille, abbondanza, sono stato malato di fibrosi polmonare idiopatica dal 2016 al 2022, il 2 aprile ho ricevuto il dono del trapianto, sono stato trapiantato di due polmoni e volevo dirvi che il 9 e il 10 di settembre a Forlì faremo una grande festa, una festa del respiro, si chiama Sharing Breath, condivisione del respiro, ci incontreremo, parleremo, ci confronteremo e vorremmo soprattutto sensibilizzare l'opinione pubblica su queste malattie polmonari che tolgono ogni giorno un respiro. In Italia non esistono campagne di screening programmate e quindi la sensibilizzazione su queste tematiche dell'opinione pubblica è molto importante. Arrivare a delle diagnosi precoci è fondamentale nel rallentare il progredire di queste malattie. Quindi vi aspettiamo tutti a Forlì il 9 e il 10 settembre per questa bellissima festa. Grazie a tutti.